ciao a tutti e bentornati a crime and comedy il podcast di true crime condotto da due comici vostri clara campi e marco champier è la centodecima volta che ripetiamo sta frase all'inizio perché la centodecima puntata veramente sì almeno puntato puntatone ufficiale puntatone ufficiale quindi in realtà l'avremmo detto 150 volte tipo ma secondo me abbiamo sfiorato alle 190 comunque oggi puntatona speciale parliamo di in genere io sono specializzato in italiani che vanno a fare danni all'estero e invece a sto giro c'è un italiano che pensa di essere estero che fa danni in italia perché parliamo del mostro di merano ferdinand gamper ed eccoci qua a raccontarvi la storia di ferdinand gamper una storia di cui non si trova niente infatti che ci avete chiesto in tantissimi sperando che noi dal non so forse per scienza infusa riusciamo a trovare informazioni che in realtà non ci sono ma giustamente tanta gente dice voi avete sempre un sacco di dettagli io voglio saperne di più su questa storia chiedo a voi hanno ragione il problema è che se proprio non ci sono delle fonti noi non abbiamo niente a cui attingere per cui o facciamo un podcast fantasy dove ci inventiamo le cose oppure abbiamo poco da dire anche noi esatto infatti questa puntata sarà un po più breve perché le informazioni su ferdinand gamper non ce ne sono tantissime comunque su tutta questa storia ce ne sono tanti ci sono tanti dubbi tante cose che comunque poi vedremo durante la puntata ma cominciamo a ringraziare quelli che ci hanno chiesto ferdinand gamper che sono i patreon vero e teo e poi ringraziamo gli ultimi bristofili iscritti ragazzi abbiate pazienza passeremo a salutare tutti quanti e sono alexis paolette diana martine zerrera cristina da col il pese chiara laura bigardi claudio v fabio fantaspezia verzonica laura gentili monica d'antoni chiara bucuri pechini che penso che sia bucuri pechini vabbè comunque ale noemi chris arianna cazzato leo rau eugenia e lara b grazie mille per esservi iscritti e oggi facciamo gli auguri di compleanno e i ringraziamenti per l'iscrizione a gio 93 tanti auguri di buon compleanno a te certo marco perché mi sono appena reso conto che è un nome neutro gio 93 quindi non so se ah ok ok vabbè comunque tanti auguri tanti auguri gio e basta abbiamo finito va bene va bene grazie a tutti quelli che ci supportano su patreon e ragazzi poi tra l'altro noi presto faremo anche delle date presto vuol dire inizio 2024 quindi controllate sul nostro sito crime and comedy punto it nella sezione live ci sono le date dei nostri spettacoli noi saremo sicuramente a roma e a genova a gennaio queste due date in particolare non sono sul sito solo perché non è ancora attiva la prevendita però appena è attiva noi non vi preoccupate che mettiamo tutto lì e poi ragazzi se volete c'è anche la sezione shop dove potete trovare le magliette con i serial killer esatto esatto che tra l'altro stanno andando a ruba quindi grazie mille se se poi le prendete e volete condividerle su su instagram fate pure grazie e taggateci che le condividiamo esatto e se vanno bene magari ne faremo faremo qualcun altro che ci state richiedendo perché ovviamente cinque serial killer ovviamente ci dicono eh ma quello lì eh ma quello là soprattutto ted bandi vogliamo tutti i ted bandi e ci hanno mandato anche un sacco di suggerimenti sulle frasi che direbbe ted bandi quindi ragazzi non dipende da noi se le magliette vendono bene ne faremo altre e ne faremo una di ted bandi promesso sì fidatevi comunque marco è scettico oggi a prescindere sì sì oggi 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 sono mal mostoso perché piove perché piove perché siamo passati dall'estate all'inverno non ce ne siamo accorti e quindi siamo un po' così sì ma tipo ieri nel senso ieri era estate poi diventato inverno improvvisamente comunque cominciamo a parlare della storia del mostro di merano ok è una storia che si svolge in nell'arco di un mese di febbraio del 1996 che sappiamo bene non c'erano cellulari c'erano erano appena arrivati non c'era internet c'erano comunque non c'entra niente né internet nei cellulari così è solo per triggerarvi ok comunque siamo a merano nella ovviamente nella provincia autonoma di bolzano in in alto adige e trentino alto adige che poi dico arrivano no trentino alto al trentino alto adige e ok siamo appunto a merano e merano è accarezzata sentite come sono forbite accarezzata a est dal a ovest scusate dall'adige ed è attraversata da un affluente dell'adige che il passirio che divide in due la città nella parte nord del passirio quindi proprio dal da questo fiume dal passirio nella parte nord ci sono le colline e ci sono c'è tutta una zona che si chiama le passeggiate perché ci sono varie passeggiate con vari nomi come passeggiata d'inverno passeggiata d'estate eccetera e nella parte sud c'è poi la città vera e propria nel senso si sviluppa il centro e il resto della città comunque appunto nella parte nord in quella che viene chiamata passeggiata d'inverno che proprio lì sulle sulle rive ci sono ans 8 detmering di 61 anni che è un tedesco che si sta trasferendo a merano perché con la sua attuale compagna che è clorinda cecchetti che ha 50 anni ed è una diciamo amministrativa scolastica delle marche ok stanno facendo questa passeggiata loro sono lì a merano dal 3 febbraio stanno in un albergo e sono lì perché ans che sta per andare in pensione lui è un funzionario della banca centrale tedesca no della della bundesbank lui vuole andare in pensione trasferirsi a merano ha già individuato la casa e sono lì per le trattative tra l'altro una casa da qualcosa tipo un miliardo di lire ai tempi e neanche neanche poco comunque sono lì che stanno passeggiando sono le sette di sera quando a un certo punto si sente un botto fortissimo e ans cade per terra clorinda si abbassa per per vedere cosa cosa è successo e anche lei viene colpita alla testa dall'alto verso il basso da un colpo di pistola subito vengono chiamati ovviamente le forze dell'ordine cioè subito vengono quando vedono i corpi quando vengono trovati i corpi vengono chiamate le forze dell'ordine non l'ho detto forse l'otto cioè forse non l'ho detto l'otto febbraio ok ok vengono chiamate le forze dell'ordine e ans morirà tipo il giorno dopo in ospedale mentre clorinda è morta sul colpo fanno l'ottopsia e effettivamente sono stati uccisi da qualcuno con un colpo di pistola alla testa entrambi ans da dietro la nuca e appunto clorinda dall'alto verso il basso estraggono dalle teste i proiettili li fanno analizzare sono due proiettili magnum calibro 22 poi verrà verrà ovviamente fuori il calibro preferito da tutti il ventino sì sì e questi qui sono un po particolari perché non sono proprio di pistola ok e appunto la 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 polizia comincia indagare su sull'omicidio di questi due di queste due persone no e vedono che ans aveva divorziato dalla moglie un po di tempo prima loro due sono insieme da almeno quattro anni ok e quindi e poi lui appunto un funzionario della bundesbank hanno in realtà due piste no una che è quella appassionale che magari è stato assunto qualcuno dalla moglie per uccidere ans e l'altra è quella più economica no magari ans trattava denaro per per grossi clienti eccetera e magari che ne so c'era un giro di denaro sporco una roba del genere in realtà non non arrivano nel senso queste piste non portano nessuna parte perché non trovano niente per la questione economica no di di ans e anche la moglie ha un ha un alibi di ferro perché lei fa la farmacista ed era in germania tra l'altro controllano tutti i conti della famiglia di di ans della moglie eccetera e non c'è nessun trasferimento di denaro prelievi strani niente che possa far far pensare alla moglie che abbia assunto un killer no anche perché la cosa strana di di questo omicidio che sembra proprio un'esecuzione no qualcuno si è avvicinato e ha bruciapelo ha sparato alla nuca a dance e poi a clorinda e niente quindi cioè stanno indagando ma appunto questo omicidio è abbastanza strano beh molto sì perché non si capisce che cosa possa essere che poi comunque appunto uno è un passionale poteva avere una parte economica perché se lui si stava comprando sta casa ma quindi erano già divorziati sapevo che erano solo separati la moglie e ans però allora e allora si trova poco su sto caso mi sembrava che non non avessero già divorziato che fossero solo separati e che questa storia con clorinda fosse iniziata come una storia extra coniugale e quindi è per quello che vai a pensare alla moglie però appunto se lui si stava comprando sta casa che non costava poco uno può pensare se non sono ancora divorziati ma solo separati lui muore i soldi c'è la moglie e non se la compra sta casa cioè no volevo solamente no 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 dare ulteriori motivi perché la pista tra virgolette passionale potesse avere un senso sì sì perché appunto loro la prima cosa che scoprono appunto che lei clorinda era delle marche e lui era tedesco cosa ci fanno a merano quindi sono andati a vedere si sono trovati a metà strada giustamente giustamente no e allora io ho trovato che erano già divorziati perché comunque la storia risaliva quattro anni prima con la con clorinda e penso che cioè nel senso ho trovato che loro erano già divorziati comunque non c'era rancore da parte della moglie e dei figli perché comunque lui aveva anche due figli no comunque appunto queste piste finiscono nel nulla sì se non che il 13 febbraio si presenta la polizia un ragazzo di 24 anni lì dalla zona di merano che si chiama luca nobile luca nobile e dice di essere testimone inoculare di questo omicidio lui ha visto una persona che si avvicinava a appunto a dance e a clorinda e sparava clorinda e poi a dance luca dice di essersi spaventato di essere scappato a rifugiarsi dietro un albergo che era lì della zona poi torna indietro poi ha detto che tornate indietro al sul luogo del delitto quando era già arrivata la polizia poi appunto sempre spaventato era andato verso merano ed era arrivato in centro e in centro aveva visto aveva rivisto quest'uomo che aveva sparato a dance e clorinda e lo descrive come un uomo alto di carnagione scura senza barba vestito di nero con uno zaino e lui dice che quando ha sparato loro aveva questa pistola nascosta nel senso dietro tipo dietro lo zaino quando è arrivato a sparare ok e da una descrizione di massima no di di questa persona il giorno dopo quindi il 14 febbraio c'è il giorno dopo che che luca è andato a diciamo spontaneamente a dare questa testimonianza luca viene prelevato e portato a padova per dare l'identikit per fare l'identikit di questa persona che appunto alto circa 30 anni carenagione scura riccio con un cappello cioè lui dice riccio però con un cappello in testa anche un un berretto e vabbè c'aveva i ricci che spuntavano da sotto il berretto dai assolutamente e appunto senza barba senza baffi eccetera senza occhiali così la polizia poi ovviamente lo riporta da padova a amerano a amerano e lo lascia sotto casa di sua madre il 14 sera verso le 21 arriva una telefonata da parte di una donna che vive in un maso che dice che umberto marchioro che il nipote che ha suo nipote sì che nipote di questa donna che è un contadino di 58 anni affetto da una certa invalidità è morto nel cortile di questo maso il maso tra l'altro da sulla sulla statale la statale che va da amerano a bolzano perché loro sono c'è questo maso si trova nella frazione di sinigo no è appunto da su questa statale però la vera domanda è marco che cos'è un maso ma allora da quello che ho trovato io dovrebbe essere una un vecchio finile diciamo reso abitabile comunque sono delle strutture tipiche di quella zona lì del trentino il maso ok quindi tipo finili roba di agricoltura sì sì infatti lui a questo qui faceva il contadino no sì 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 no perché spiegare perché anch'io cercando dappertutto scrivono maso come se fosse una parola che noi usiamo tutti i giorni cioè io l'ho usato solo per pietro come parola ma infatti qua ci saranno anche problemi con i genitori e se ci sono problemi con i genitori il maso è sempre in mezzo ok ok no e comunque appunto questa donna chiamato per perché appunto umberto marchioro è stato trovato morto in giardino tra l'altro con la faccia tutta sporca di sangue sì il primo medico che fa il primo rilevamento su questo umberto dice nel senso stabilisce la morte come morte tra virgolette naturale no certo perché naturale che inizia a sanguinare dalla faccia ma infatti dice probabilmente gli è venuto un infarto è caduto di faccia picchiato alla faccia e lì ha cominciato a sanguinare e poi è morto anche perché lui ha 58 anni è invalido ora se non ci sono diciamo motivi per pensare che qualcuno è stato ucciso l'autopsia non viene fatta soprattutto se hai una certa età soprattutto se hai dei come si dice delle condizioni fisiche pregresse che potrebbero portare alla morte certo quindi non viene fatta l'autopsia il giorno dopo quindi il 15 febbraio un altro medico guardando il corpo si accorge che non è che nel senso non è che si è fatto male cadendo perché ha un buco in fronte e allora lì gli fanno l'autopsia gli fanno l'autopsia effettivamente trovano un altro proiettile all'interno della testa di questo umberto che verrà mandato poi ai carabinieri di roma al centro investigativo dei carabinieri di roma per vedere il calibro di questo di questo proiettile effettivamente loro troveranno che un altro calibro 22 magnum no che è identico al proiettile che hanno ucciso sia ans che clorinda quindi ci sono tre persone morte dalla stessa mano gli investigatori cominciano a indagare su 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 chi potrebbe aver ucciso questo umberto marchioro perché non è cioè nel senso un semplice contadino non è che una persona in vista o a chissà che agganci eccetera e scoprono che a 200 metri da casa di questo marchioro abita luca nobile quello che era andato due giorni prima a a fare la con cioè nel senso a dare la sua testimonianza su su sul primo omicidio e quindi vanno a prendere luca nobile luca sta dormendo scoprono che sta dormendo in una tenda dentro un cantiere a circa 200 metri dalla casa di di umberto ok gli chiedono che cosa ha fatto la sera del 14 dopo aver fatto la la l'identikit e dopo essere andato a padova a fare l'identikit e lui dice che torna cioè che è stato riaccompagnato a casa dalla polizia ha bussato a casa di sua madre sua madre non gli ha aperto non c'era nessuno in casa le ha provate a entrare così non non c'è riuscito non aveva le chiavi perché pare che questo luca non abitasse ogni tanto con sua madre ma fosse più o meno senza tetto no e quindi cosa ha fatto ha preso e ha preso una stradina è andato verso la la statale e poi è risceso nella frazione di sinigo passando di fronte a casa di umberto però luca dice io questo umberto marchioro non lo conosco in realtà poi gli investigatori scopriranno che la tenda dentro cui vive luca cioè dentro cui ogni tanto dorme luca così era stata vista anche nel cortile sempre dalla statale nel cortile di questo umberto marchioro ok ok e qui dice qualcosa che non torna no nelle dichiarazioni di luca ovviamente vanno indagare e scoprono un po di cose su su questo luca innanzitutto che appunto lui dice di non conoscere questo marchioro ma la sua tenda la tenda dove poi bibaccava c'è ogni tanto era nel appunto nel 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 giardino nel cortile di questa di questo maso ok poi pare che lui sia un tossicodipendente un drogato perché tra l'altro lui dice un drogato perché lui dice che la sera che sono stati uccisi sull'ans e clorinda lui era lì perché si stava fumando una canna così in realtà quella sera lì l'otto febbraio un altro uomo è passato alla passeggiata d'inverno che perché questo qui andava a fare jogging tutte le sere no in quella parte lì della della città perché era quella meno frequentata alle macchine eccetera quindi più libero di fare jogging eccetera e lui ha visto luca nobile alle 18 e 45 ok no quindi poco prima che venissero uccisi secondo la scientifica secondo l'autopsia poco prima che venissero uccisi sia ans che clorinda ok un altro sempre il 14 febbraio dice che portando fuori il cane lui faceva la strada che dice che deve aver fatto luca nobile la sera in cui è morto umberto no il contadino ok perché facendo quella strada lì tutte le sere col cane e lui dice che il 14 febbraio non ha visto nessuno lungo quella strada cosa che in teoria secondo il racconto di luca che lui dice io ho fatto quella strada lì poi sono sceso giù poi sono andato perché lui cercava qualcuno che gli offrisse da bere qualche amico qualcuno infatti poi era andato fino a merano per tornare indietro eccetera luca aveva comunque detto che era passato verso le 8 8 25 massimo di dalla strada che portava giù a sinigo sì ho capito però c'è le persone non è che si ricordano gli orari precisi non è matematico che quello che porta fuori il cane debba averlo incrociato per forza ogni volta che ci sono queste cose con gli orari così precisi mi sembrano le cene con delitto la realtà non è proprio così sì ma infatti il fatto che questo qui come fa a ricordarsi che proprio il 14 ha portato fuori il cane non ha visto nessuno che lui dice che lo faceva tutte le sere lui usciva tutte le sere le 8 col cane e non vedeva mai nessuno nessuno sì ho capito proprio quella sera lì si ricorda ok è una cosa cioè nel senso è una testimonianza un po così se non che il 21 febbraio interrogano o meglio si si fa avanti e viene interrogata un'amica di di luca tale tamara sebastiani tamara sebastiani è un'altra tossicodipendente che conosce luca no e lei c'ha un sacco di cose da dire su questo luca sì ha un'altra cosa luca viene fermato cioè quando vanno a prenderlo c'ha del sangue sul sul giaccone c'ha degli schizzi di sangue lui dice che sono dovuti a una rissa che lui ha fatto una rissa in un in un bar e prendi un pugno dai un pugno ti sporchi di sangue ok questa tamara sebastiani testimonia che luca effettivamente è un po uno sbandato è uno che fa uso frequente di stupefacenti sì come lei assiduo esattamente come lei tra l'altro lei sa che luca sa maneggiare bene le pistole perché l'ha visto sparare perché l'ha visto sparare perché lei avendo bisogno di eroina aveva rubato la pistola allo zio e voleva fare voleva rapinare qualcuno però ovviamente prendere i soldi andarsi a comprare la roba a chi è che chiedi chiedi a luca chiedi a luca nobile no e quindi lei gli aveva dato la pistola dello zio e lui aveva cioè aveva usato questa pistola e aveva fatto vedere come sparare in mezzo a un campo ok ok tra l'altro in questa storia cioè quella più delinquente mi continua a sembrare lei però infatti sì sì ma infatti poi questa tamara dice che in realtà luca nobile conosce molto bene umberto marchioro tanto che gliela aveva presentato cioè nel senso luca aveva presentato umberto a tamara perché umberto avrebbe dovuto tenere la pistola dello zio di tamara nascosta fino alla rapina sì è una storia credibilissima devo dire è una storia sì esatto d'altronde quando hai un testimone così credibile come lei cioè perché devi mettere in dubbio ma infatti infatti è un'altra cosa in una di queste serate dove tutte e due stavano usando super facenti che erano così luca le dice sì è vero dobbiamo rapinare qualcuno però è possibile che questo qualcuno dobbiamo anche eliminarlo no e quindi questa diciamo testimonianza di tamara viene presa come oro colato ma lo è chiaramente ma lo è ma lo è ma tu hai dei dubbi su questa persona qua ma infatti ma infatti no ma infatti no e infatti luca il 22 febbraio viene definitivamente arrestato e messo in custodia cautelare insegnandoci a tutti la lezione se vedi qualcosa fatti i cazzi tuoi assolutamente assolutamente sì allora poi questa cosa qua di luca nobile è una cosa che rimarrà lì uno dei misteri di 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 questa storia e luca ovviamente viene interrogato nei giorni successivi all'arresto e lui tra l'altro non cambierà mai versione cioè lui darà sempre la stessa versione di quello che ha visto di quello che ha fatto senza mai contraddirsi sì che è una cosa strana per uno che si inventa un una roba che non ha visto no ma io ti volevo chiedere una cosa perché non l'ho trovo io non l'ho trovata però magari tu hai fatto delle ricerche più approfondite e mi sai rispondere a questo coesito ma le vittime fino adesso le tre vittime soprattutto le prime due sono stati anche derubati mancavano i portafogli ma se no non mancavano ecco ok ok perché avevo il dubbio perché non non ho trovato nulla che lo dicesse in modo esplicito sì quindi ho pensato non li hanno derubati se no lo direbbero però non ho trovato la conferma e allora se non sono stati derubati tutta sta cosa del tossico che uccide per rubare i soldi per farsi la prossima dose non ha senso cioè non è difficile eh sì ma infatti ma anche perché il come si dice Umberto Marchioro no quello che il contadino cioè è stato ucciso nel cortile del suo maso sì no e nessuno è entrato e nessuno è entrato ma infatti nessuno è entrato tra l'altro appunto la zia l'ha trovato sdraiato per terra no a faccia in giù e probabilmente non ha sentito cioè poi vabbè lui aveva 58 anni la zia magari era molto più anziana quindi magari sicuramente non ha sentito il botto del del della pistola e quindi cioè nel senso non è proprio una rapina a scopo cioè nel senso non è un omicidio scopo di rapina ma anche ma anche ans e clorinda cioè gli investigatori non hanno cioè non si sono messi sulle tracce a cercare qualcuno che li abbia rapinati sono andati a vedere subito la famiglia sono andati a vedere i precedenti sono andati a vedere il lavoro no di cioè quindi penso che non ci fossero proprio rapini cioè non c'era fosse proprio l'intenzione della rapina comunque hai ragione è questo che dico perché se io ci posso credere al tossico e tutto però intanto se il tossico è andato a derubare poi non va a parlare con la polizia a dire io ho visto sta cosa si fa i cazzi suoi assolutamente sì assolutamente ma infatti ma infatti è strano comunque l'ultimo interrogatorio di luca arriva il 26 febbraio dove lui ancora cioè nel senso anche messo sotto torch eccetera non si contraddice e da sempre la stessa versione dice sempre le stesse identiche cose che aveva detto per l'interrogatorio essendo anche diciamo cioè dipingendolo come tossico è una cosa strana perché nel senso uno se poi in astinenza eccetera cioè dice qualsiasi cosa pur di magari arrivare un patto che mi da datemi almeno una sigaretta un qualcosa del genere no cioè io ho pensato una roba del genere cioè è strana come cosa che non si contraddice mai sì ok è vero sì beh però appunto negli anni 90 tossico basta fine non è che vai lì perché vabbè luca chiaramente era uno spiantato no sì abbiamo visto come viveva e faceva uso di droghe però effettivamente fare uso di droghe può voler dire molte cose cioè se era lì a farsi una canna in mezzo alla natura cioè non è una roba da tossici no no infatti ma infatti assolutamente comunque il 27 febbraio luca è arrestato agli arresti no cioè nel senso in custodia cautelare alle 20 e 30 circa diciamo in centro a merano ci sono paolo vecchiolini e ivano sanzio che stanno passeggiando appunto sotto i portici che che arrivano fino alla già al centro di merano sono lì vicino alla cattedrale la piazza del duomo no e allora loro due sono insieme da tipo 11 anni quindi sono praticamente una coppia ormai consolidata lui ha 36 anni fa il ragioniere lei 32 anni fa l'architetto mentre stanno passeggiando una persona lì l'incrocia alza il braccio e spara in testa a paolo ivonne lo vede lo vede cadere comincia a urlare e questo tizio sembra che stia cercando di ricaricare l'arma che ha ivonne lo prende urla e scappa via scappa via salvandosi per fortuna e ovviamente loro va subito alla polizia perché comunque in centro a merano la gente avrà chiamato subito polizia carabinieri 113 e lei lo descrive quest'uomo qua ed ha una descrizione esattamente opposta a quella che da che aveva dato luca innanzitutto lei dice che non è una persona tanto alta sarà una persona alta un metro e sessanta circa era vestito di nero con una tuta da ginnastica tutta nera aveva uno zainetto un cappello di lana nero mentre luca aveva detto che aveva su un giubbotto nero di pelle jeans neri però aveva dato vabbè uno si può anche cambiare uno si può sì no no uno si può anche cambiare la descrizione è diversa però per quanto riguarda l'abbigliamento non starei lì a cercare il pelo nell'uovo no no infatti poi lei dice che quest'uomo che lei ha visto bene in faccia ha almeno 40 45 anni no dalle rughe dalle cose agli occhi molti incavati infatti lei non si ricorda come agli occhi non si ricorda il colore non si si non si ricorda neanche la forma degli occhi gli occhi è l'unica cosa che lei non riesce a descrivere tanto bene no però dice che è magrissimo no al viso molto scavato e allungato ha della barba incolta sul viso di quella cioè nel senso però non gli cresce tantissimo sulle guance e de biondo e ha uno zenetto con sé che è una descrizione esattamente opposta a quella che tra l'altro luca aveva detto non mi sembra neanche europeo no indicando è perché ha detto i carnagioni scure eccetera non mi sembra neanche europeo mentre lei dice secondo me era italiano no cioè perfettamente italiano e fa appunto lei fa questo questi denti kit no e siamo al 27 di febbraio questi denti kit comincia a girare allora qua io non ho capito esattamente come succede come non succede perché da da una parte ho trovato che la polizia vada questo barbiere a far vedere gli denti kit secondo me gli denti kit viene viene condivisa questo barbiere avvisa la polizia perché cioè non penso che la polizia vada con gli denti kit posto per posto no è andata così come dici tu marco il barbiere che ha fatto la segnalazione poi loro sono andati a parlarci sì sì perché magari l'avranno pubblicato sui giornali immagino è infatti quello che ho pensato anch'io comunque appunto il questo barbiere che carl anton da pra che ha questo salone charlie nella zona bella di merano chiama la polizia e dice che lui nella nell'identi kit ha riconosciuto un suo amico di infanzia tale ferdinand gamper si conoscono dall'infanzia ogni tanto gamper va lì a tagliarsi i capelli e la cosa strana è che questo gamper non sa l'italiano proprio zero non ha mai voluto imparare l'italiano anche se vive lì a merano e quindi chi è questo ferdinand gamper è uno che è una storia un po particolare no come non succede mai nelle nostre contate ma infatti non succede ma incredibile allora innanzitutto della vergine marco ma cos'è sta pista per i segni zodiacali che ce l'avevi all'inizio poi sembrava che l'avevi persa adesso è tornata con una prepotenza incredibile sì 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 ma infatti ma non so perché sto dicendo se cazzate però sai che cosa mi piace perché io penso che siamo l'unico podcast con una voce femminile maschile dove è la voce maschile che rompe il cazzo sui segni ma di solito è il contrario sì sì no ma allora in realtà c'è una certa organizzazione nella cosa che è tipica della vergine anch'io sono della vergine però non mi sono mai rivista nella descrizione della vergine sì no ma io infatti ti vedo che mi spari in testa qualche perché non lo so comunque a parte scherzi allora ferdinand del atto il 12 settembre 1957 lì vicino a merano vicino vicino a città di merano non proprio merano a kainess non so se si pronuncia così o vabbè comunque in questa puntata si pronuncerà così in questa puntata si pronuncia così allora sua madre si chiama luise e suo padre si chiama adalbert ed è ovviamente tedesco mentre luise mi sa che italiana luisa italiana comunque loro fanno i contadini pastori eccetera non ho capito esattamente no no mi stavo ma tipo una cosa tipo haidi ci dobbiamo immaginare penso penso di sì penso di sì come un'infanzia tipo haidi sì sì un po più drammatica credo leggermente più drammatica non scherzava però sì sì però peggio questa diciamo esatto però però peggio però peggio la ferdinand ha sicuramente un fratello più piccolo ricard sì sì probabilmente anche un fratello più grande che si chiama carl non si sa bene io non sono riuscito a trovare l'albero genealogico di questa famiglia per quanto mi sia impegnato nelle ricerche però pare che ci sia un fratello più grande carla che non c'è che rientra nella storia solo fra poco però c'è il fratello minore ricard entrambi vivono coi genitori giustamente che fanno i contadini fanno i pastori così ferdinand fin da piccolo dimostra di non essere tanto bravo a scuola quindi a un certo punto penso nell'adolescenza lascerà la scuola per per andare a lavorare coi genitori nei campi da una parte ho trovato che il padre abusasse di lui però appunto è tutto così cioè nel senso non ci sono spiegazioni non c'è niente di di certo la cosa certa è che a un certo punto il padre se ne va abbandonando sia ferdinand che suo fratello ricard che la moglie pare dopo che hanno perso tutti i loro averi per un investimento sbagliato tutto quello sì e tra l'altro dopo che il padre se ne va la madre comincia ad avere problemi mentali anche qui non ho trovato niente da una parte ho letto schizofrenia però non si sa cioè nel senso non c'è niente di certo perché loro nominano dicono questa cosa solo da una parte quindi ma sì probabile che non c'è nemmeno una diagnosi è un'ipotesi basata su certi comportamenti immagino sì probabile è quello comunque appunto lui cresce con con la madre cresce col fratello sicuramente col fratello minore tanto che a un certo punto lui e il fratello decidono di prendere un maso in val d'ultimo e dedicarsi all'agricoltura biologica no siamo negli anni 80 inizio degli anni 80 robe del genere falliscono perché erano troppo avanti sui tempi erano troppo avanti ancora non c'erano tutte le cose bio che ci sono oggi che costano l'ira di dio no infatti il fratello riccard decide di trasferirsi in germania va in germania a fare il falegname ferdinand rimane tra virgolette in italia nel senso che rimane in trentino alto adige che è tra virgolette italia sì no perché in realtà lui non vuole imparare l'italiano non non vuole fare l'italia infatti pare che si unisca a e in tirol che sarebbe un circolo un circolo fascista e terrorista di secessionisti del 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 tirolo no del trentino alto adige di di tutta quella zona lì che fanno attentati così per tutti gli anni 80 ok ok e lui lavora un po in italia come contadino come pastore eccetera un po in svizzera ok nel 1989 il fratello riccard il fratello più piccolo torna in italia no da da ferdinand pare per suicidarsi ah cioè lo scopo del ritorno era quello non poteva farlo dove stava evidentemente no perché se lo fai magari in germania non c'è nessuno e quindi non ti seppelliscono non ti ma che ti frega sei morto eh lo so sì in effetti è vero comunque e si suicida in un modo molto particolare perché prepara un coltello per terra poi si spara in fronte e cadendo cade sul coltello sì perché si sa che i coltelli se tu li metti in piedi stanno in piedi beh sì sì beh se si rincastri bene probabilmente sì cioè no che mi pare un c'è un metodo di suicidio un po articolato no cioè proprio strano un po strano vuoi essere sicuro di di morire cioè nel senso che che poi anche lì ti spari in fronte cioè come fai sapere che cadrai sul col cioè in avanti tipo sul coltello e non magari indietro ti accasci e vabbè il coltello è un'assicurazione no perché sai a volte anche se ti spari in testa non muori che penso che sia la cosa peggiore in assoluto cioè ti spari in testa non muori è il peggio che poteva andare e quindi voleva assicurarsi però boh questo è se ci dobbiamo credere per forza sta storia perché io a quelli che cadono sul coltello non ci credo sono una donna di poca fede no ma infatti ma neanche io ma neanche io però è ufficialmente stato categorizzato come suicidio catalogato come suicidio sì 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 è stato sì è tutto derubricato come su allora è possibile che magari sia tornato abbia litigato con ferdinand non è già nel senso secondo me secondo me è più più plausibile questa cosa qua cioè noi non lo sappiamo però sembra più realistico sembra molto più realistica la cosa comunque dopo la morte del fratello muore anche il padre di ferdinand e lui non andrà al funerale del padre perché comunque li aveva abbandonati perché esatto li aveva abbandonati però appunto va a vivere in questo maso riadattato in questo maso che il padre aveva comprato a rifiano che è sempre lì nella zona del di merano cioè comunque lì abbastanza vicino no e vive lì vive lì e lavora un po' lì e un po' in svizzera come contadino come pastore è un diciamo stagionale ok sì no perché lavora solo cioè in alcuni periodi dell'anno tipo in primavera così e comunque fa avanti indietro tra la svizzera e merano per per lavorare ovviamente cioè questa qui è la storia di ferdinand gamper però la polizia dopo aver parlato col col barbiere non è che prendono e partono e vanno direttamente a rifiano a prendere ferdinand ci pensano tra l'altro scusa ma quando ogni volta che dici barbiere mi viene in mente il barbiere pasticcere che tu non conosci perché giustamente non hai figli ma in realtà si chiama il pane pan barbiere il suo vero nome perché c'è questo cartone animato che c'è questo tizio che è un è un pane è un pezzo è una fetta di pane però di lavoro fa il barbiere e poi c'è il latte che è il suo aiutante che però il cartone del latte giusto ma non è tutto molto poco igienico è tutto bello no secondo me i cartoni animati nuovi sono molto più belli adesso tutti nati negli anni 90 mi vorranno uccidere per questa frase ma secondo me è così vabbè niente scusami che continua a immaginarmi la polizia che va a parlare col pan barbiere scusa andiamo avanti cazzi miei tra l'altro non c'è bisogno di farvelo sapere sì no no poi io dovrò cercare ovviamente le immagini del pan barbiere però fa niente no allora la polizia comunque parla con cioè quando questo carla il barbie il pan barbiere cioè parla di ferdinand alla polizia poi non è che vanno direttamente a rifiano a cercare questo ferdinand aspettano perfetto grazie andiamo avanti aspettano il giorno dopo il primo marzo intanto comunque durante perché qui il barbiere fa la fa la denuncia tipo il 29 febbraio ok quindi il primo marzo il giorno successivo ovviamente in questo periodo qua in questo mese perché anno bisesto anno funesto esatto è successo tutto per una questione esatto di anno bisestile esatto no in tutto questo mese qua perché il primo omicidio c'è stato l'8 febbraio adesso siamo al 29 febbraio ovviamente a merano si era scatenato il panico tra l'altro il sindaco aveva messo il divieto di uscire alla sera quindi c'era coprifuoco merano era diventata una città fantasma wow no nessuno usciva tutti erano ma sì ma anche perché comunque erano state colpite persone tra virgolette a caso sì 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 ok e niente il primo marzo con tutta calma tre carabinieri salgono su una volante e partono verso rifiano no tra questi cioè uno di questi tre carabinieri era il maresciallo guerrino botte di 58 anni prossimo pare alla pensione tutti ci tengono a specificare questa cosa qua no mentre questi tre carabinieri stanno andando verso rifiano la signora melchiorri nel da casa sua sente un colpo fortissimo guarda fuori dalla finestra e c'è il marito tullio melchiorri anche lui di 58 anni che accasciato per terra vicino a lui c'è ferdinand gamper che ha un uno straccio pare avvolto intorno alla mano lei in tedesco gli chiede che cosa è successo lui non le risponde torna verso casa sua che questo maso cioè ristrutturato adibito ad abitazione no e perché i melchiorri e gamper vivevano abbastanza vicini no erano proprio vicini infatti lui torna torna a piedi lei corre verso il marito e vede che il marito c'ha un colpo di arma da fuoco un buco in testa lo copre con un asciugamano prova a mettergli sotto il coso e torna in casa a chiamare la polizia intanto torna dal marito e sta lì col marito aspettando ovviamente la polizia no sì e l'ambulanza e l'ambulanza e sì i soccorsi no certo certo tra l'altro mentre lì col marito vede che sotto un sasso c'è un biglietto prende questo biglietto io non ho capito se è scritto in italiano in tedesco no però questo biglietto dice sono un italiano emigrante e responsabile di infanticidio questo tullio melchiorri faceva il muratore ho provato a cercare se ci fosse qualche diciamo notizia su questo tullio melchiorri non ho trovato ovviamente niente non c'è niente non c'è niente e comunque appunto arriva la polizia lei dice che cosa è successo e vanno verso casa verso il maso di di ferdinand gamper no direi di sì intanto sono già arrivati è già arrivata la pattuglia con i tre carabinieri quella con su guerrino botte appena arrivano lì fuori dal maso ferdinand comincia a sparare comincia a sparare e si crea una specie di stallo no una uacco italiana no in cui ci sono fuori carabinieri e poi arriverà la polizia poi tra l'altro arriverà anche l'unità dei crimini violenti che sarebbe quella che viene chiamata squadra antimostro no che non c'era più la vera squadra antimostro quella per il mostro di Firenze però c'è c'è l'unità crimini violenti che riguarda c'è che tratta serial killer e omicidi seriali così in Italia c'è e verranno coinvolti anche verranno coinvolti anche loro in sta cosa qua erano già stati coinvolti durante le indagini va bene non l'ho detto perché comunque non c'è nel senso non è stato non è che hanno dato chissà che apporto alla no no perché comunque c'è nel senso è un hanno solo stabilito che gli omicidi erano fatti tutti dalla stessa mano sì perché ok e cosa succede che guerrino botte a un certo punto riesce ad avvicinarsi al maso no però mentre si sta avvicinando probabilmente per guardare dentro una finestra ferdinand da dentro spara e lo becca in fronte lo becca in fronte lì parte un'altra sparatoria perché devono recuperare ovviamente guerrino e dargli i soccorsi purtroppo guerrino verrà portato all'ospedale morirà il tipo poco dopo durante un'operazione cioè nel senso che vorranno operarlo ma non ce la faranno salvarlo e questo è l'ultima vittima di ferdinand gamper perché appunto la situazione questo che succede intorno alle 10 del mattino la situazione arriva a uno stallo c'è nel senso a uno stallo per tutta la mattina perché continuano ovviamente lui spara da dentro il maso e loro sparano da fuori no tra l'altro tutto il maso è circondato da poliziotti arriva addirittura anche un elicottero no proprio c'è proprio stile wako e stile wako gli cercano a un certo punto di stanarlo con i lacrimogeni gli sparano dei lacrimogeni dentro il maso che arrivano sul tetto il tetto di paglia prende fuoco proprio wako veramente è tipo proprio wako a un certo punto è circa mezzogiorno sentono l'ultimo colpo di pistola e poi silenzio aspettano 20 minuti mezz'ora vanno a vedere effettivamente ferdinand gamper si è sparato in testa si è sparato in testa con una carabina weirauk calibro 22 magnum e che aveva la canna il il calcio segati in modo che fosse portatile e fosse si potesse usare stile pistola e quindi ci stava nello zainetto ok ok era proprio segata lui sparava ai carabinieri con quella e poi hanno visto che era la stessa arma che aveva sparato tutte queste persone qua cioè nel senso tutte le vittime di 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 ferdinand gamper no certo nel nella casa nel maso trovano anche due biglietti uno che dice viva la grande germania e non fermerete l'unione del pantyroll ok e l'altro dice anche questa volta siete arrivati troppo tardi ok e questa è la fine di ferdinand gamper che è stato ovviamente accusato di di degli di sei omicidi che sono quelli che vi abbiamo elencato che però in realtà non si sa esattamente il perché li abbia fatti sono arrivati a delle conclusioni vedendo più o meno la tipologia di di omicidi no il fatto è che lui fosse anti italiano lui ha ucciso solo italiani tranne otto che però stava parlando in italiano con clorin dal primo no quello della bundesbank che stava però parlando in italiano quindi è probabile che lui sia stato tratto in inganno pensando che fosse italiano e gli ha sparato pare che l'abbiano classificato come serial killer missionario ok ok che è uno è una tipologia di serial killer che non uccide per per libidine per sesso eccetera ma perché pensa di avere una missione a volte data dall'alto a volte sarà da lui io ho trovato una bella definizione di serial killer missionario che adesso se vuoi leggo vai un po lunga ok ok dice l'assassino seriale di questo tipo quindi sarà il killer missionario è convinto di avere il compito di portare a termine una specie di missione divina che lo vede nel ruolo di colui che ripulirà il mondo da persone considerate indesiderabili generalmente questo soggetto non soffre di una psicosi ma spesso è condizionato a convinzioni personali sostenute da alcune false percezioni di tipo paranoide quindi tipo paranoico e si convince di alcune cose non prova neanche rimorso per le sue azioni in quanto è convinto che stia eseguendo un compito che gli è stato segnato direttamente da dio e che serve per migliorare la società ok la giustificazione che hanno dato questi omicidi di Ferdinand visto anche la sua militanza nell'entirol fosse che odiava gli italiani odiava gli italiani non aveva mai voluto imparare l'italiano lui voleva che il Tirol il Trentino Alto Adice fosse diciamo riconsegnato all'Austria o alla Germania o a chi per loro ok che è il desiderio di molti che vivono lì sì sì però però poi tutta questa storia ovviamente è stata cavalcata dalla politica locale no che hanno ritirato fuori questa storia della secessione dell'annessione all'Austria così e però in realtà non si capisce il perché Ferdinand cioè a parte un attacco di paranoia seria anche perché lui dicono voleva liberare il Trentino Alto Adice dagli italiani però minchia nel senso ti devi proprio impegnare a andare in giro a sparare un sacco di gente sì ma poi uno alla volta ci impieghi troppo tempo eh infatti poi cioè devi andare lì parlargli in tedesco se non sono in tedesco se sono in tedesco cioè nel senso è un po' rischiosa come cosa cioè perché magari becchi gente che la pensa come te che vuole anche loro vogliono una secessione pur essendo italiani così no ma io quello che non capisco è se odi così tanto l'Italia ami così tanto la Germania perché non vai a vivere in Germania come ha fatto tuo fratello cioè non ha senso tutto ciò solo che questo è morto quindi non sappiamo cosa gli passava per la testa eh infatti infatti e qua torna il fratello maggiore Carl perché è quello che si occuperà del funerale perché lo seppelliranno tipo l'8 marzo del 1996 di fianco tra l'altro suo padre quindi Beffa e l'unico che parteciperà al funerale pare sia il fratello Carl fratello maggiore non so se anche la madre fosse ancora viva ha partecipato anche lei al funerale questo qui non lo so non l'ho trovato perché la sorella madre si fermava al fatto che fosse malata cioè che avesse un qualche problema mentale no? ok e niente questa qui era la storia di Ferdinand Gamper che in realtà non si sa esattamente il perché l'abbia fatto si può evincere che probabilmente si odiasse gli italiani che a un certo punto anche lui probabilmente soffriva di qualche problema mentale tipo schizofrenia paranoide cose del genere quindi ha detto no basta adesso ci penso io qui non stiamo facendo le cose come vanno fatte e comincio a eliminare italiani come se non ci fosse un domani no? che poi però boh cioè se la vedi così fai le strage fai le stragi cioè non è che amassi le persone non alla volta a me colpisce la cosa che va sempre a colpire delle coppie tranne la seconda vittima sì non lo so se c'è magari non c'entra niente ed è solo random però boh è strano vede la prima coppia che vanno in giro in una roba romantica la passeggetta d'inverno poi dopo vabbè c'è la seconda vittima poi però dopo c'è la terza coppia che sta passeggiando in centro addirittura poi l'ultima vittima comunque cioè è il vicino di casa tra l'altro sì spara il vicino di casa sapendo che è sposato e che probabilmente la moglie correrà subito cosa che ha fatto cioè non lo so forse c'è un elemento anche lì però non possiamo saperlo no ma infatti non è anche perché il biglietto è strano no io sono un emigrato italiano colpevole di infanticidio che io non ho trovato nessuna spiegazione a questa cosa qua cioè probabilmente era stato accusato o essere reso come si dice autore di un infanticidio cioè magari aveva ucciso un bambino per sbaglio tipo investito una roba del genere cioè non non si sa niente di purtroppo di di questa storia e le motivazioni per cui Ferdinand Gamper ha ucciso quelle vere le sa solo lui possiamo andare solo per deduzione eh non lo sapremo mai non lo sapremo mai ma infatti ascolta Marco facciamo un appello sì ai futuri spree killers sì non vi suicidate perché cioè a noi poi interessa vedere il processo le interviste dopo quindi per cioè se dovete fare una cosa così fatela fino in fondo grazie esatto sì sì o se avete dettagli lasciate un diario in cui spiegate molto dettagliato per favore molto dettagliato che poi io non ho trovato neanche i biglietti cioè non ho neanche trovato se i biglietti fossero scritti in italiano o in tedesco perché se lui non sapeva l'italiano cioè scrivere in italiano nel 96 che non c'era internet eccetera era un po' un casino probabilmente magari avevano un'infarinatura cioè alla fine eh ma infatti siamo sicuri che lui non sapesse l'italiano perché questo lo dicono tutti però può darsi che fosse una delle sue fisse però poi in realtà lo capiva benissimo eh esatto magari esatto lo capiva magari parlava qualcosa infatti ha scritto poi vabbè magari i biglietti erano sgrammaticatissimi eh può darsi può darsi e poi niente poi c'è questa cosa qui che eh cioè noi italiani siamo razzissi verso noi stessi sì veramente un popolo che si si butta giù più di quello italiano e non l'ho mai visto sì perché cioè all'estero come dicevi anche tu cioè non è che ci odiano no anzi anzi ci amano tantissimo vabbè magari in Francia non tanto però però anche lì non mi sono mai trovata male neanche in Francia no esatto sì anch'io tutto il resto del mondo braccia aperte se vai fuori dall'Europa e sei italiano ti stendono il tappeto rosso dappertutto ma porca miseria se vanno negli Stati Uniti sono lì che dicono ah intanto negli Stati Uniti pensano che noi viviamo ancora in bianco e nero senza elettricità cioè nelle caverne sì però se becchi un italiano americano che vede che tu sei italiano ti aiuta in qualsiasi cosa cioè proprio tu non lo conosci il tuo miglior amico sì quindi sì non so perché gli italiani si odiano così tanto secondo me dovremmo imparare un pochino dai francesi questa puntata mi odieranno tutti dopo che perché secondo me i francesi hanno trovato la formula giusta del patriottismo perché tipo gli americani lo esagerano non va bene secondo me i francesi hanno trovato la formula giusta appunto sì sì no e niente poi vabbè noi siamo cioè noi ci odiamo tra di noi all'interno della cosa ma io credo che sia una questione del fatto che siamo stati uniti siamo stati uniti cioè l'Italia è stata riunita in modo forzato e non naturale sì però non è solo una questione di regioni che si odiano tra di loro cioè è proprio una questione che gli italiani parlano sempre male degli italiani porca miseria perché ma allora io odio i miei vicini ecco ecco non è vero non è vero no però sì comunque ragazzi fateci sapere cosa ne pensate nei commenti di questo odio interno internos che c'è fatecelo sapere appunto nei commenti di Spotify o se no sui nostri account social che sono Instagram cremandcomedy.podcast o se no c'è il gruppo cremandcomedygroup su Telegram c'è il sito cremandcomedy.it dove trovate appunto la tab per gli eventi live e per le magliette se volete e niente noi ci sentiamo settimana prossima per una nuova puntata di cremandcomedy stavolta andiamo all'estero sì puntata molto richiesta devo dire quindi finalmente accontentiamo una richiesta cioè finalmente lo facciamo sempre però questa questa richiesta arriva sin dall'inizio di cremandcomedy e se ti ricordi prima ancora delle richieste questo nome qua noi ce l'avevamo già nella lista ed è continuato a slittare settimana prossima arriva sì 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 esatto va che hype va che hype sì sì porca miseria infatti andrò a vedere chi dobbiamo fare perché mi è venuta una curiosità che non mi ricordo no no in realtà mi ricordo no lo sa benissimo sì 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 e niente ragazzi grazie mille per averci seguito e ci sentiamo settimana prossima ciao 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 Grazie a tutti. Vado io stavolta. Ciao a tutti, cari Patreon, bentornati a questo overtime della puntata di Ferdinand Gamper, che, indovinate, non c'è molto altro da dire. Vabbè, vabbè, qua secondo me l'avevano intuito i Patreon, perché vista la durata molto esigua della puntata, direi che se ci fosse stato altro da dire l'avremmo detto in puntata. Sì, porca miseria, non ho più parlato di Luca. Eccolo, diciamo. Eccolo. Non ha visto, ha visto per metà, ha visto effettivamente chi era, ma era suo amico e quindi non ha voluto denunciarlo, sviando le indagini, così. Non lo so, non lo so, perché da un lato, secondo me, l'unico motivo che hai per andare a denunciare e questa cosa è perché l'hai vista veramente. D'altro canto, appunto, perché da questo identikit completamente errato? Può anche darsi che era lontano e non l'ha visto bene, però ha comunque fatto un volo di fantasia per descriverlo così. Eh, ma soprattutto perché sei andato tu spontaneamente a dire io ho visto questa roba qua. Cioè, o veramente sei un mitomane, soffri, cioè hai bisogno di essere cagato, hai bisogno di essere considerato, hai bisogno di sentirti importante, ed è molto strana sta cosa, che però non è mai stata spiegata. Luca non l'ha mai spiegato, lui è rimasto fedele e coerente alle sue prime dichiarazioni, che è una cosa stranissima per chi mente, riuscire a rimanere fedele e coerente su quello che c'è. Eh, ma infatti, secondo me, lui non ha, non lo so, a me, a naso, a pelle, mi sembra che Luca non abbia mentito. Però appunto questo, c'è un buco di trama enorme nella mia teoria, che è appunto questa descrizione che non c'entra un cazzo. Quindi non lo so, non lo so, è tutto un mistero sta storia. Sì, sì. Però c'è tra Luca e la sua amica, io credo a Luca, la sua amica mi sembra che spari cazzate. No, no, poi la sua amica è stata, anche questa cosa qui mi sono iniziata a dirla in puntata. Facciamo che questo overtime lo rendiamo disponibile a chiunque. Sì, sì, infatti, lo carichiamo anche su Spotify. No, allora, anche la sua amica poi è stata accusata di falsa testimonianza. Perché lei ha, cioè, ne si sono testimoniato delle cose che effettivamente non esistevano. Chiaramente ha detto cazzate, cioè. Sì, ma poi anche perché questa sua amica ha detto cazzate contro, cioè, nel senso, per incastrare Luca? Eh, allora, qua bisogna mettersi un attimo il cappellino da complottisti. Allora, sì, la prima, quella più ovvia che stavi accennando tu, è che lei doveva vendicarsi di Luca per qualcosa. Che può avere senso. Se no, c'è l'altra, l'altra teoria che magari è la polizia che sono andati lì a parlare con un po' di tossici nella zona e magari hanno promesso qualche contentino a chi diceva qualcosa. Perché se poi succedono? Sì, sì, ma infatti, allora, la cosa che ho pensato io è stata la polizia che ha bisogno di una testimonianza per avere ancora più prove contro Luca. Ok. Perché le prove che avevano contro di lui erano molto indiziarie, no? Cioè, nel senso, erano, tra virgolette, coincidenze. Cioè, lui era passato vicino alla casa. Lui diceva di non conoscere questo Umberto, la seconda, la terza vittima, no? Questo contadino diceva di non conoscerlo, però forse lo conosceva. Però era passato vicino a casa sua, quindi buona coincidenza. Ma anche lì, il fatto qualcuno che ha testimoniato che la tenda di Luca era stata vista nel giardino, nel cortile di questo maso. Siamo sicuri che era proprio quella di Luca? Esatto. Questa tenda? Esatto. Siamo sicuri che Luca era l'unico che usava quella tenda lì, perché lui dormì in questo cantiere quando sua madre lo cacciava di casa. Cioè, nel senso, è tutta una storia strana. Cioè, cosa più interessante è la storia di Luca, che non quella di Ferdinand Gamper. Eh sì, perché di Ferdinand non sappiamo niente, quindi almeno di... No, no. Cosa, poi c'è... Non lo so, non lo so. Non capisco perché lui è andato a denunciare dicendo di averlo visto, se poi non l'ha visto così bene il tizio, questa roba mi sfugge. Cioè, poi è anche strano perché ha denunciato diversi giorni dopo. Sì, cinque giorni dopo. È successo l'otto, il tredici, quindi sì, cinque giorni dopo. È strana anche sta cosa, però può anche darsi che se veramente era un tossico, diffidi dalla polizia, quindi lui magari ha detto mi faccio i cazzi miei. Poi dopo ha visto che ne parlavano i giornali, così ha detto no, ma forse è il caso che vado a dire qualcosa. E perché nella sua mente sto tizio era completamente diverso da Ferdinand? A meno che il primo non è stato Ferdinand. È quello che ho pensato anch'io, probabilmente il primo non è stato Ferdinand, però era un'organizzazione fatta da Ferdinand un'altra persona, che si erano scambiati l'arma, si erano cose del genere. Però appunto è tutto strano, è tutto fumoso, purtroppo l'accusato è morto, suicida, e quindi non sappiamo niente. Tra l'altro io ho fatto una fatica della miseria a raccontare questa storia perché mi si andava a inceppare il cervello. No, c'è nel senso perché dovevo raccontare una roba e arrivavo in un punto, sei tipo i bug che non ti fa più andare avanti, non so col gioco così, e mica non mi andava avanti il cervello. E tutti guardo, ci hanno fatto la macumba, settimana scorsa dovevo condurre, io stavo male, oggi conosci tu e c'hai i bug nel cervello. Sì, sì, no, allora io a mia discolpa dico che non mi sono ancora rassegnato al fatto che le ferie sono finite e non c'ho voglia di ricominciare a lavorare, No, veramente questa volta qui mi sta pesando tantissimo. Ma come? Eh sì. Ma il 20 ottobre direi che possiamo... Eh ma lo so, ma infatti... Ma poi ascolta, adesso ottobre e novembre, almeno per quanto riguarda il mio mondo, sono sempre stati due mesi dove si lavora di più, no? E anche dicembre, anche dicembre. Però poi storicamente gennaio, febbraio, marzo sono praticamente un'altra vacanza, quindi dai devi tenere duro per pochissimo, per due mesi. Ma scusa, ma se è gennaio, febbraio, marzo sono tre mesi che abbiamo live e dobbiamo fare... Hai ragione, hai ragione. Forse torna un'altra cosa, quindi... Forse torna un'altra cosa, ma come sei... Sì, questo suono misterioso. Misterioso, so, enigmatico volevo dire. Sì, è enigmatico, va bene, ma tanto non ci guarda nessuno fino adesso. Cioè, nel senso... No, no, nessuno guarda tutta, tutta, tutta la... Oh sì, guardate... No, fateci sapere se guardate fino in fondo anche gli overtime. Marco, sì. Sì. Ti svelo un segreto. Allora, non tutti i Patreon guardano gli overtime, perché alcuni si dimenticano, non ci hanno tempo, e comunque l'overtime alla fine è il completamento della puntata, non è che sia di per sé la cosa, la prima cosa che ti viene in mente è ascoltare. No, quindi alcuni Patreon non l'ascoltano proprio. Ma chi l'ascolta, l'ascolta fino alla fine, ti confermo. Perché dovrebbero ascoltare tre minuti e poi interrompere? Eh, non lo so, perché non c'è niente da dire su Ferdinand Gump. Eccola, ecco. Ma infatti io volevo proporre una cosa che secondo me gli overtime, quando iniziamo a dire... Che poi questo, questo non c'è nient'altro da dire, c'era un'intera parte che potevamo benissimo dire in puntata, invece di fare una puntata... Ma a sto punto, Marco, facciamolo veramente. Facciamo questo overtime pubblico, lo attacchiamo in coda alla puntata. Eh sì. Diciamo così Patreon, cioè così chi sta valutando se iscriversi a Patreon ha un'idea di che cazzo sono questi overtime, che ogni tanto diciamo overtime, giustamente se uno non è Patreon non ha ben presente che cos'è. È sta roba qua. Giusto. Eh sì, adesso, quindi lo devo editare. No, fai una cosa. Non lo so, pensiamoci. Lo editi, tu poi me lo mandi e tagliare cose cattive che ho detto su chi ci ascolta. Cosa devo tagliare? Ma gli overtime sono belli perché non vanno tagliati. Eh no, no, bisogna tagliare. Ah ok, vabbè. Allora poi mi dici cosa vuoi che taglio. Eh sì, ma io non mi ricordo. Ho detto cose sconvenie, ragazzi, fateci sapere. Secondo me no, però se vuoi lo ascolto e se ci sono delle parti che potrebbero essere interpretate male ti mando quelle parti lì e mi dici tieni le, togli le se vuoi. Va bene, va bene. Non lo so. Adesso vediamo se metterlo veramente in coda. Però ci potrebbe stare per una volta. Li abbiamo sempre tenuti molto solo per i Patreon. Mentre le puntate Patreon ogni tanto ne facciamo uscire qualcuna per dare un assaggio. In effetti l'overtime non l'abbiamo mai fatto. Chiaramente poi attaccandolo così tipo su Spotify sarà terribile perché si sentirà un audio terribile all'improvviso. Eh sì. Gli overtime sono fatti via semplice videochiamata. Sì, sì. Non registriamo l'audio come nelle puntate. Ma no, ma intanto lo mettiamo come, diciamo, scena post-credit dopo la sigla. Lo attacchiamo lì e diciamo... Bravo, bravo Marco. Ecco, però facciamo anche una mini intro dove diciamo adesso vi attacchiamo un'overtime. Cioè spieghiamo che cazzo è. Sì, va bene. Lo mettiamo in descrizione. Ah, ok. Va bene, va bene. Scriviamo in descrizione. Ma non solo audio. Se vuoi te la registro io. Te la mando già attaccata, se vuoi. Sì, va bene, va bene. Non lo so. È interessante sta cosa però che ci vengono le idee mentre stiamo registrando l'overtime. Sì, sì. Rendendo tutti partecipi del nostro processo creativo. Sì, sì. Ma pensa che... Ma no, ma nessuna intro. Cioè nel senso lo mettiamo così. Così la gente vede la puntata che dura un'ora e venti, un'ora e un quarto. Poi vede la sigla e dice, cazzo, ma mancano ancora venti minuti. Cosa sarà mai? Cosa sarà mai? È un'overtime per tutti a sorpresa. Esatto. Che l'overtime di solito è solo per i Patreon. Tra l'altro, i Patreon, i Bristofile, i Crime Stalker hanno l'accesso a tutti gli overtime che giriamo. Sì. Con tutto che noi non garantiamo che ogni puntata abbia un overtime. Però obiettivamente ogni puntata un'overtime. L'avremmo saltato tutto in totale. Sì, sì. A meno che non finiamo veramente tardi e siamo veramente distrutti. Però cerchiamo di farli sempre. Esatto, esatto. E invece i serial followers hanno accesso a minimo un overtime al mese. Minimo. Di solito di più, perché magari quando ci sono gli overtime tipo questo, che abbiamo un'illuminazione e diciamo una roba effettivamente importante, che non abbiamo detto in puntata, allora quelli tendenzialmente sono per tutti i Patreon. Invece quelli dove parliamo magari di scoiattoli, sono solo per i Patreon, i Bristofile e i Crime Stalker. Sì, sì, perché ovviamente pagando di più se non meritano di sentire noi che parliamo di scoiattoli. Ascolta, vabbè, è un po' che non parlo di scoiattoli comunque, perché sta piovendo in questi giorni, quindi non sto andando al parco. Tra l'altro ho anche le castagne da dargli adesso, per differenziarmi dai vecchi che gli danno le arachidi. Ma guarda, dove sono andato a abitare io adesso? Ci sono gli scoiattoli, minchia, ma c'è uno scoiattolo che è grosso come la 500. È enorme, cioè è una roba enorme, veramente. Sì, ma viene lì che ti chiede da mangiare, di solito quelli grossi ti vengono contro. No, sì, no, allora mi ha rapinato due volte, mi ha rubato il cellulare. E una volta l'ho visto arrivare con le borse dell'esse lunga della spesa. No, però c'è nel senso... Sì, sicuro che è uno scoiattolo, Marco, è il vicino di casa che ha un furry. Esatto, è un furry, si è fatto fare 10.000 euro di costume da scoiattolo, vero. No, ovviamente va bene, sto scherzando, però è molto grosso, però è agile, cioè nel senso non è di quelli grassi. Cioè è proprio grosso lui, cioè è proprio lungo, con la coda... È Splinter! È Splinter, infatti sto aspettando che arrivano anche le tartarughe ninja. Eh sì, però Splinter era un topo, gli scoiattoli sono un po' più carini dei topi. Sì, sì, e niente, ovviamente abbiamo delirato in questo Overtime. Sono così gli Overtime, così i nostri patri non conoscono fino a che punto siamo deficienti. Esatto. Perché in puntata magari ogni tanto mascheriamo, no? Sì, sì, io lo lascerei così per tutti. Cosa, l'Overtime? Sì, con i deliri finali, eccetera. Ma certo, ma certo, l'Overtime non si edita. Sì, va bene. E la parte più bella dell'Overtime, guarda, c'era una parte che in te io avrei dovuto tagliare, poi però te l'avevo detto, cioè tu mi avevi dato l'ok, ti ho detto no, sta parte non la taglio. Dove c'era vicino di casa di Marco che stava martellando e capite che quando bisogna registrare un podcast e qualcuno ti martella al piano di sopra è un problema grosso. E quindi abbiamo avuto problemi a registrare la puntata, finalmente l'abbiamo registrata. Nell'Overtime stavamo parlando di sto vicino e mentre parlavamo del vicino si è rimesso a martellare. Quindi si vede la chiusa dell'Overtime con Marco che dice ma vaffa! Però gli ho detto no, non lo taglio. Ma è piaciuto molto il Patreon, quindi vedi. Sì, sì, io che mi incazzo. Quando vedo nel travaso di Bile piace sempre quella roba lì. Ok Marco, va bene. Va bene, dai direi che questo Overtime adesso si è esaurito e grazie mille del supporto a tutti voi Patreon e a sto punto grazie anche a tutti gli altri perché mi sembra che l'abbiamo deciso di rendere un pubblico per tutti così a sorpresa. E se vi piacciono queste cose qui sappiate che su Patreon è pieno perché ormai cos'è un anno che facciamo anche l'Overtime. Quindi su Overtime ci sono un botto, un botto di puntate extra, non le ho contate, ma a sto punto quante sono? Sono trenta di più? Eh, sono tipo ventisei, ventisei, ventisette, venticinque forse. Sì? Sì. Mi sembrava di più, ok. Ah no, aspetta, venticinque più due, sì, ventisette, sì, siamo sulle trenta. Eh, infatti, infatti, quindi va bene. Grazie mille ragazzi, alla prossima! Ciao!